Buon pomeriggio, buona domenica, ben trovati a questo consueto appuntamento con il riepilogo dei principali fatti della settimana appena trascorsa. Cominciamo da lunedì 20 agosto, sono tre gli allevamenti contaminati dalla diossina che si è sprigionata dopo l'incendio che è scoppiato nella discarica di Bello Lampo. Divieto assoluto di utilizzare il latte prodotto in questi allevamenti, spostare le mandre o macellare le carni. Il timore che l'incendio divampato lo scorso 29 luglio e durato per giorni nella discarica di Bello Lampo potesse avere degli effetti nefasti sulla qualità della vita di noi tutti, si sta rivelando più che fondato. Tre allevamenti dislocati tra Cruillas e Torretta sono contaminati. I valori della diossina presenti nel latte munto dagli animali sono tre volte superiore a quelli consentiti dalla legge, tra i 12 e i 13 picogrammi contro i 5,5 tollerabili. Quindi i tecnici dell'azienda sanitaria provinciale che continuano a tenere sotto controllo le mandre della zona hanno disposto l'assoluto divieto di utilizzare latte o carni provenienti dalle aree contaminate. Per quanto riguarda frutta e verdura, gli esperti ricordano che gli ortaggi non assorbono la diossina, la quale si deposita e basta. Quindi bisogna lavare accuratamente tutto quanto prima di mangiare. La situazione è sotto controllo, rassicura Lucia Borsellino, direttore generale del Dipartimento Attività Sanitaria dell'Assessorato Regionale alla Salute, pur nella criticità dovuta alla presenza di valori di diossina e in alcuni casi superiori ai tetti massimi. E lunedì ci siamo occupati di politica regionale. Il tempo stringe, ancora nessuna certezza sul nome del candidato alla presidenza del centrodestra. Il nuovo polo dialoga con Grande Sud. Tutto questo succedeva lunedì. Entro mercoledì il PDL dovrebbe decidere se puntare su un candidato politico o tecnico in vista delle elezioni regionali del 28 ottobre. Tre i nomi in corso al presidente dell'Arsa Francesco Cascio, il rettore dell'Università di Palermo Roberto Lagalla e l'ex sottosegretario Nello Musumeci. Sul rettore c'è la convergenza dell'ala catanese, dei borlusconiani, dei coordinatori regionali Giuseppe Castiglione, Domenico Nania ed anche di Dore Misuraca. Ma senza una larga coalizione che include i moderati e senza ampi poteri, Lagalla potrebbe rinunciare a candidarsi alla presidenza. Sul fronte opposto c'è Francesco Cascio che sta intensificando gli sforzi per proporre la sua candidatura e ha dalla sua parte l'ala palermitana degli azzurri che reclama più spazio in lista e opportunità in giunta. Sull'altro fronte l'asse PD-UDC che sostiene Crocetta sembra avviato il dialogo con Flì che però non intende rompere il patto con Lombardo. Il terzo polo ha quindi intensificato i rapporti con Gianfranco Miciche. Questa intesa, spiegano da Grande Sud, garantirebbe la possibilità di un sorpasso sul PDL. Non a caso fra Miciche e Lombardo sono volate parole d'intesa. Che ci sia una sintonia tra il partito dei siciliani e Miciche ha detto l'ex presidente della regione fuori discussione. Sarebbe importante che si mettessero insieme l'esperienza autonomista. Il resto deve venire dopo. Martedì 21 agosto, enti locali, Palazzo Dorlean ha raggiunto il tetto massimo di spese imposto da Roma e ha congelato le uscite tra le somme bloccate e anche quelle destinate ai comuni. E scoppia la polemica. Palazzo Dorlean blocca i fondi destinati ai comuni siciliani perché ha già raggiunto il tetto massimo imposto da Roma e scoppia l'ira dei sindaci. L'atto di guerra è firmato da Giacomo Scala, il presidente dell'Associazione dei Comuni Siciliani che si dice pronto a impugnare ogni singolo provvedimento del governo regionale se non saranno garantiti i trasferimenti. I sindaci siciliani si trovano costretti a tagliare all'estremo la spesa e aumentare le tasse dato che a settembre potrebbero essere a rischio anche gli stipendi dei dipendenti comunali. Basti pensare che Palermo si trova sull'orlo del default perché i tagli nazionali e regionali hanno sottratto una somma di circa 12 milioni di euro nel 2012 che potrebbe arrivare ad oltre 40 al regime dal 2013, una situazione disastrosa che lascerà molti feriti. Sembra tragico quindi l'affetto dell'ascure sui trasferimenti statali e regionali ai quali si aggiunge a cascata il blocco della spesa della regione a causa dei vincoli dettati dal patto di stabilità. Sull'argomento interviene anche il presidente di Confindustria Palermo Alessandro Albanese. Bisogna fare una scelta politica chiara ha detto, bisogna puntare su investimenti produttivi a che servono 27 mila forestali se gli incendi poi si moltipicano e non riusciamo a affronteggiarli. È intanto in Sicilia da Grigento a Bageria a Emergenza. Luciano Abbonato è il nuovo assessore al bilancio del comune di Palermo. Archiviate così le dimissioni di Ugo Marchetti. Luciano Abbonato è il nuovo assessore al bilancio del comune di Palermo mentre Cesare Lapiana, già assessore alle partecipate, è stato nominato vicesindaco. Dopo appena due mesi dall'insediamento della nuova giunta ecco che arriva la prima ristrutturazione sulla squadra di governo cittadino. Il sindaco Orlando archivia così il caso legato alle dimissioni di Ugo Marchetti e non risparmia accuse all'amministrazione precedente colpevole di avere depredato le società partecipate. Dalla mala gestione dell'Aimia di viaggio a Dubai fino alla GESIP per il quale il sindaco ha chiesto al governo nazionale di intervenire. Occorre cacciarivertice la formula di Orlando perché restano troppe sacche di sprechi ed inefficienze mentre i lavoratori operano in condizioni pesantissime per far tornare la situazione alla normalità. La situazione resta comunque grave. Orlando non nasconde il rischio default del comune per i tagli nazionali e regionali che hanno sottratto una somma di circa 12 milioni di euro nel 2012 e che potrebbero arrivare ad oltre 40 milioni nel 2013 nel silenzio del governo che Orlando accusa di immobilismo. Secondo Orlando dietro questo silenzio si celerebbe l'azione dei partiti che hanno perso le elezioni a Palermo e che pensano di vendicarsi determinando l'immobilismo del governo utilizzando così la città e di cittadini come merce di scambio o di ricatto. Siamo in una situazione al limite il cui prezzo non va affatto pagare i cittadini. Il rischio dissesto finanziario del comune comporti infatti l'aumento al massimo possibile delle tasse, la messa in mobilità di migliaia di lavoratori e l'interruzione di servizi essenziali per la città. Per Orlando è necessario evitare la macelleria sociale ma anche che le conseguenze negative del risanamento siano pagate dalle classi sociali già colpite dalla crisi. Mercoledì 22 agosto colpo di scena nel centrodestra. Gianfranco Miciche ritira la sua candidatura e lancia quella dell'esponente della destra nello Musumeci. Angelino Alfano accetta e così il centrodestra si ricompatta. Il PDL rinuncia ad un proprio uomo nella corsa a Palazzo d'Orlean e accetta la proposta di Gianfranco Miciche di candidare l'esponente della destra nello Musumeci. Il segretario del PDL Angelino Alfano ha spiegato la scelta sottolineando che occorre costruire uno schieramento alternativo a queste sinistre prive di progetto di governo e di idee sullo sviluppo di questa terra straordinaria. Se questa è la sfida seria e concreta noi ci stiamo. Intanto il candidato designato dal leader di Grande Sud ha dichiarato di essere onorato per essere stato scelto a sostenere una sfida esaltante. Musumeci si augura però che si determinino le condizioni per dare vita ad un ampio schieramento alternativo alla proposta alle sinistre per realizzare assieme ad un innovativo progetto di sviluppo di buon governo improntato ad efficienze e legalità. Ricompattato quindi il centro-destra con il sostegno del partito dei siciliani, l'ex MPA e del coordinatore nazionale del PID Saverio Romano. Nel centro-sinistra dove con l'eccezione dell'incognita di Italia dei Valori i giochi sembrano definiti con le candidature di Rosario Crocetta appoggiato da PD e Udc e di Claudio Fava che corre a Bersell. Ludovico Albert, il dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale alla Regione, si è reso disponibile a lasciare il suo incarico. Non credo ci siano gli estremi per rimanere al mio posto, ha detto, e non so neanche se mi chiederanno di rimanere. Ludovico Albert, l'esperto piemontese chiamato nel 2011 a gestire il buco nero della formazione professionale in Sicilia, avrebbe inviato all'assessore della formazione a Cursio Gallo una lettera con quelle che lui stesso definisce le sue dimissioni, proprio a ridosso di Ferragosto. Dimissioni però che lo stesso assessore si è affrettato a smentire. Quella, secondo me, non era una lettera di dimissioni, afferma Albert prima di andare in ferie. In quella missiva tirava un po' le somme sui risultati ottenuti durante il suo mandato e facendo una considerazione generale sulla fine di un periodo politico preciso, culminato con le dimissioni di Lombardo, rimetteva a me e all'ex presidente le sorti del proseguio del suo incarico. Tono su tono all'assessore Gallo risponde il dimissionario Albert che controbatte per me quella lettera lasciava intendere chiaramente che si trattava di dimissioni. Proprio in Sicilia ho imparato l'uso delle sfumature delle parole. È inutile negare che sta iniziando una fase politica nuova. Non credo ci siano gli estremi per rimanere al mio posto. Ascolterò se ci sarà la proposta che mi faranno. In ogni caso, da lunedì il dirigente generale sarà al suo posto, nel suo ufficio, visto che sono necessari ufficialmente tre mesi di preavviso e l'argomento sarà oggetto di discussione in occasione della prossima giunta come previsto. Giovedì 23 agosto, GESIP stop alle attività. Dal primo di settembre, operai sul piede di guerra, si attendono risposte dal Governo nazionale. Dal primo settembre stop all'attività della GESIP a Palermo. I fondi non bastano neppure per pagare gli stipendi di agosto e i lavoratori si preparano a scendere in piazza. Intanto il sindaco, Leo Luca Orlando, cerca soluzioni. Ho avuto un colloquio telefonico con il Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, sulla situazione della GESIP. La proroga per il contratto dei lavoratori scada il 31 agosto mi ha informato del fatto che, ha aggiunto Orlando, la questione insieme ad altre situazioni analoghe e relative ad altri territori sarà discussa dal Consiglio dei Ministri. Il prossimo 30 agosto, comunque, il sindaco incontrerà il Ministro Cancellieri, che ha dichiarato che quella del Comune di Palermo è una situazione molto complessa, ma il distesto si può dichiarare in qualsiasi momento e se ci sono le condizioni lo può dichiarare anche lo stesso Orlando. Il nuovo precipitare della situazione è frutto del mancato invio della seconda rata di 5 milioni da parte del Governo, soldi subordinati alla chiusura di GESIP. Il Comune, quindi, è rimasto a secco perché costetto ad anticipare le somme di maggio, giugno e luglio. Adesso si attende la risposta da Roma. La regione siciliana, attraverso un protocollo di intesa tra gli assessorati competenti e l'azienda Foreste, avvia un sistema che riuscirà a garantire una maggiore cura e pulizia dei siti archeologici, passando attraverso una rimodulazione delle risorse umane. Protocollo innovativo, 5 assessorati convolti, 5 dipartimenti convolti, una delibera di giunta che segue anche un'esperienza, quella dell'anno scorso, in cui il Corpo forestale ha seguito, finito il controllo antincendio, nel mese di ottobre alcuni siti, come quello di Serinonta. A questo punto, al di là della volontà del Dipartimento dell'assessorato, abbiamo messo nero su bianco la volontà di seguire e di mantenere tutti i siti culturali. Naturalmente non ci sarà nessun aggravio di costi, ci saranno circa 7 mila forestali. In sostanza sono anche gli antincendio che si sposteranno e cominceranno a fare manutenzione e pulizia dei siti archeologici? Sì, sarà una manutenzione dovuta alla potatura delle masse vegetali che potrebbero causare antincendio. Naturalmente far sì che verranno sottratte queste imponenti masse vegetali farà sì che i siti saranno più ordenati e manutenuti. Non una rivoluzione, ma l'allargamento di una forma che è sperimentata già dall'anno scorso a tutti i siti culturali. Quindi questo tipo di lavoro di squadra, questo tipo di lavoro di collaborazione di tutti gli assessorati. Chiaramente quest'anno vedranno impegnati per il proseguo con un protocollo d'intesa i beni culturali, il territorio e ambiente, l'assessorato agricoltura e energia e ambiente e anche la formazione, rappresenta un modo nuovo di lavorare. Questo sì, in questi termini sicuramente c'è una grande innovazione che porterà sicuramente dei grandi frutti, atteso che avremo la possibilità di razionalizzare l'impegno di risorse senza aumentare la spesa, garantendo migliori servizi su tutto il demanio regionale. Venerdì 24 agosto alla Regione tagli per 1 milione 400 mila euro garantiti solo stipendi e scuola. Armao dice che bisogna rivedere il patto di stabilità. Il patto di stabilità strangola la capacità di spese e la Regione corre ripari. La Giunta di Governo ha deciso di limitare per il momento la spesa agli interventi indifferibili e urgenti al pagamento degli stipendi, in attesa di ridiscutere in tempi brevi con il Governo nazionale il patto di stabilità che impone alla Sicilia di effettuare un miliardo e mezzo di euro in meno di pagamenti rispetto all'anno scorso. Al momento, stando al patto di stabilità, la Regione avrebbe ancora una spesa residua di un miliardo, mentre invece dai dipartimenti arrivano richieste per 1 miliardo e 400 milioni. L'assessore al bilancio, Gaetano Armao, spiega che esistono margini di manovra con il Ministero e, a dir poco paradossale, richiedere alla Sicilia ha detto, come le altre regioni del Mezzogiorno, un impegno all'accelerazione del cofinanziamento della spesa comunitaria per incrementare l'impiego dei fondi europei e dei fondi FAS, questi ultimi finalmente sbloccati dalla decisione del Cipe di alcuni giorni fa, mentre il cappio del patto di stabilità si restringe progressivamente. In sintesi è come chiedere ad un pilota di premere contemporaneamente freno ed acceleratore. E venerdì siamo tornati a occuparci di politica regionale in vista delle elezioni. Se il centrodestra siciliano si stringe intorno alla candidatura di Nello Musumeci, il centrosinistra è in preda alle polemiche. Per molti suoi elettori il centrosinistra siciliano non perde mai la sua consolidata inclinazione all'autolesionismo e, in effetti, quello che succede da alcuni giorni non sembra smentirli. Gli esponenti delle forze di centrosinistra dicono più o meno tutti la stessa cosa. Bisogna voltare pagina, bisogna costruire un progetto alternativo. Ci vuole l'unità della coalizione. Nessuno però riesce a dare seguito a questi buoni propositi. Claudio Fava, candidato alla presidenza per Sinistra Ecologia e Libertà, ha tirato fuori le primarie quale strumento necessario per individuare una candidatura condivisa. La proposta, fatta alla fine di agosto, quando le elezioni sono previste per ottobre, è davvero ardita e il Partito Democratico non ha mancato di farglielo notare. Rosario Crocetta, candidato di PD e Udc, critica Fava e difende strenuamente la scelta di allearsi con i moderati. Il segretario del PD, Giuseppe Lupo, ha fatto sapere di essere disponibile a confrontarsi con le altre forze di centrosinistra, purché la smettano di attaccare il PD. Crocetta è la loro scelta di andare con i democristiani dell'Udc. Ma da questo orecchio Italia De Valori sembra davvero non sentirci, tanto che Leo Luca Orlando insiste nel chiedere ai democratici di scaricare l'Udc e tornare a dialogare con quelli che dovrebbero essere i suoi alleati naturali nel centrosinistra. A Palermo è stato modificato il regolamento comunale sull'iscrizione alla scuola d'infanzia che entrerà in vigore con effetto immediato. Anche ai figli degli evasori fiscali sarà consentito l'accesso agli asili comunali, eliminando di fatto il conflitto tributario. Non è giusto che i figli paghino per i padri, ma questo può valere in via di principio quando noi riusciremo a garantire a tutti i bambini la possibilità di iscriverli. Attualmente si fanno le graduatorie e le graduatorie escludono tanti bambini perché non hanno i requisiti. Sono anche quelle colpe dei padri che ricadono sui figli. Allora noi cosa proponiamo? Noi proponiamo che i bambini, i genitori che hanno posizioni contributive non in regola non vengano esclusi dalla partecipazione alla scuola materna, ma vengano trattati solo dopo avere soddisfatto i bisogni di quelli che sono in regola. È un fatto di giustizia. Noi riteniamo che non sia accettabile che la responsabilità del mancato pagamento di un tributo da parte di un genitore debba ricadere su un bambino di due anni. È un problema di carattere culturale, ma è un obbligo di legge. Non si può violare la Costituzione, non si possono applicare regole che prevedono sanzioni così dure per chi evade le tasse. A parte il fatto che dobbiamo anche tenere presente che spesso, soprattutto in questo periodo, chi non paga le tasse non sempre è un evasore, ma può capitare anche che chi non paga le tasse lo faccia perché non ha i soldi per pagare. A parte tutto questo, torno a ribadire il principio che si tratta di una norma anticostituzionale che costituisce una vergogna per una società civile e non può essere accettata. E per questa settimana è davvero tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro ancora una buona domenica. Grazie a tutti.